buongiorno 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 oggi di scavari kenya vi presenta un'altra piccola famiglia che sta crescendo questo lo seguiamo fino alla fine di scavari kenya vi presenta tutto queste cose che oggi siamo ottobre ottobre il 23 ottobre abbiamo cominciato dal 22 e oggi il 23 questo una delle piccole famiglie che sta crescendo noi di scavari kenya seguiamo sempre allora stiamo sempre con loro vogliamo sapere come la famiglia dell'anno scorso adesso sono cresciuti sono diventato un po più grande quindi sono a posto oggi abbiamo questa famiglia piccolino un gattino ha soltanto hanno soltanto solo una settimana questi sempre la popolazione di leonesi fanno sempre pari due quattro sei otto massimo sei minimo quattro quando anche una di scavari kenya vediamo in questi cuccioli hanno una settimana questo piccolissimo sono piccolissimo piccolissimo quindi adesso continuiamo seguire in questi piccolini vediamo finché quando cresco no è